Buongiorno a tutti, allora quarta volta che provo a fare questo video, sto impazzendo ve lo dico subito, voglio fare anche il video dello shima e non ce la faccio, perché sono quattro volte, questa è la quarta volta che faccio il video dei mondiali e non me lo carica. Il chip, aspettate che vi dico come si chiama questo sistema, no non posso dirvelo perché sono in onda, ve lo scriverò sotto, clip charge, qualcosa di simile, ha deciso che i video non si caricano più, e vabbè io continuerò a farli perché devo farlo, ma ragazzi miei dobbiamo andare a parlare di questo mondiale che è entrato nel vivo, sono giocati i primi due ottavi di finale che hanno seguito i pronostici, perché l'Olanda ha battuto gli Stati Uniti come da pronostico e l'Argentina ha battuto l'Australia come da pronostico, ma non senza difficoltà, nonostante il risultato dell'Olanda dica al contrario, dica al contrario, perché l'Olanda Stati Uniti è finita 3 a 1, con l'Olanda che è passata in vantaggio subito con il bombero, Memphis, Memphis Depay, poi come si suol dire ha lasciato sfogare tra virgolette agli Stati Uniti, perché comunque ci sono state occasioni da una parte e dall'altra, e poi alla fine del primo tempo, dei minuti di recupero, è arrivato il secondo gol di Blind, il giocatore che come ben sapete, come Harrison, gioca col defibrillatore. Quindi, primo tempo 2 a 0, uno dice partita, ciao ciao, bicho bicho, chiusa. Gli Stati Uniti però sono giocato orgogliosamente, hanno trovato il gol con Wright, e andatelo a vedere il gol di Wright perché veramente merita. non so quanto voluto, però è un gollozzo, può essere un incrocio tra un gollozzo e un golasso, perché è arrivato questo cross, lui l'ha colpita di tacco, la palla si è impendata, ed è terminata nell'angolino, era sul primo palo praticamente, a livello del dischetto dell'area piccola più o meno, appena fuori l'area piccola, quello che volete. in contrasto con l'altro difensore, la palla gli è finita sul tacco, non so quanto voluto, si è impendata, è andata lassù, sui monti con Annette, ma poi per minare l'embe l'embe, sotto la traversa all'angolino, no? Che c'era anche un giocatore dell'Olanda che ha provato a salvarla, ma ormai la palla era dentro, infatti lui l'ha rinviata, è finita praticamente tra la rete e il palo all'interno, e poi è rimasta dentro, quindi era già dentro quando ha tentato il salvataggio. Però è clamoroso questo colpo di tacco a pallonetto, che va bene. E quindi gli Stati Uniti accorciano le distanze, forse riusciamo a pareggiarla, forse riusciamo a pareggiarla, il problema è che si sono dimenticati da Anfris il bello libero sul secondo palo, cinque minuti dopo, e il buon Danfris col piattone l'ha messa a incrociare nell'altro palo, ha chiuso il discorso. Tra l'altro a proposito di Danfris, giustamente, ma è una cosa che continuano a dirgli i giornalisti, i compagni di squadra, l'allenatore, i tifosi, eccetera eccetera. Cazzo stai giocando, scusate il francesismo mi ha scappato, ma stai giocando a pallone, non è che stai spalando la cacca e quindi minchia che due coglioni, come l'obbino quello che fa il video, no? Stamattina mi sono svegliato alle cinque e mezza e volevo starmi da letto, poi mi sono ricordato che sono povero come una merda e quindi sono andato a lavorare con la solita voglia, eccetera eccetera. Non so se lo vedete su Facebook, sto scalso credito come me che fa i video divertentissimi in cui si consiglia come non lavorare e comunque mantenere il lavoro facendo un cazzo e con sempre incazzato perché deve andare a lavorare, no? E lui è uguale, sta facendo il mestiere, uno dei mestieri più belli del mondo perché quando sei uno sportivo giochi a pallone con entusiasmo, comunque con passione, si spera eccetera, fai un gol, fai un assist, dovresti avere il sorrisone così, invece è sempre serio. E anche Gosens le ha scritto, ma almeno stasera che hai giocato bene, hai fatto un assist, hai fatto un gol, ma cazzo ma sorridi un attimino? Cioè veramente, io capisco che per Dumfries magari vuole rimanere serio perché per lui è un lavoro, non è un divertimento, non è lì a divertirsi a fare baobabiciubicio, ma non è nemmeno a LOL che se ridi ti cacciano. Non sei a LOL, sei su un campo di calcio, hai fatto una bella partita, sorridi. No, serio, sempre. Anche il Borgoses gli ha mandato il massaggio qui a Instagram, sorridi un attimino che è ora. Però l'Olanda ha battuto 3 a 1 gli Stati Uniti, diciamo che è un pronostico che ci stava. Il risultato, ripeto, è pesantuccio per gli Stati Uniti perché, ripeto, scusate, ripeto, ripeto, ma se andiamo a vedere le statistiche, se uno non sa il risultato finale della partita e una persona gli dice guarda queste sono le statistiche dimmi secondo te che ha vinto e gli dice l'Olanda ha fatto 11 tiri in porta, gli Stati Uniti ne hanno fatti 17, 11 tiri verso la porta. Nello specchio della porta ne sono andati sei dell'Olanda, otto degli Stati Uniti. Il possesso palla è stato 59% Stati Uniti, 41% Olanda, i calci d'angolo 5 a 4 per gli Stati Uniti. Secondo te chi ha vinto? Per voi una persona dice ha vinto l'Olanda? Dirà avrà vinto gli Stati Uniti o al massimo un pareggiato. Invece ha vinto l'Olanda. Quindi vedete che spesso il risultato smentisce le statistiche. Discorso diverso invece per Argentina-Australia in cui le statistiche dicono una cosa che sembra vedere un'Argentina straripante e dice l'Australia che ha fatto quello che ha potuto. Poi vai a vedere quello che è successo durante la gara e dici però l'Australia la poteva anche pareggiare. Perché è vero che l'Argentina al primo gol di Messi è da libidine, classico gol suo, no? Passaggio in area, la controlla, tiro di sinistro che passa in mezzo alle gambe del difensore va chirurgicamente in porta. Se vogliamo fare un esempio che non è blasfemo, perché comunque stiamo parlando di Messi, non di Baobao vicio vicio, ha ricordato, anche se la dinamica è opposta, il gol che fece Baggio nel 94 contro la squadra africana, la Nigeria, dell'1 a 1. Tiro chirurgico nell'angolino opposto però, questo è andato nell'altro angolo e forse quello di Baggio era ancora più angolato di quello di Messi. Comunque Argentina in vantaggio, bel gol, nulla da dire, finisce il primo tempo 1 a 0. Argentina che ha fatto il suo, ha fatto la sua bella partita, tutto quello che però sono solo 1 a 0. Poi c'è la vaccata del portiere. Allora, due giorni prima, un giorno prima, adesso non ricopri, sembra due giorni fa, due o tre giorni ormai tre, c'è stato Kyle, la partita del Canada, no? Col portiere canadese che fa la papera, no? Penso che vi ricordiate tutti la paperata del portiere canadese contro il Marocco, no? che fuori dall'area di rigore, lo pressano, lui si porta la palla in avanti per saltare il giocatore che lo pressa, il problema è che anziché toccarla appena appena per portarsela leggermente avanti e avere ancora il controllo del pallone, la spedisce avanti di 3-4 metri dove in attesa c'è il giocatore del Marocco che non aspettava altro e gli fa il pallonetto. Ecco, il portiere degli Stati Uniti fa peggio perché è servito nella sua area di rigore. Si vede arrivare De Paul a pressarlo e lui fa lo stesso errore mandando la palla troppo in avanti sui piedi del buon Alvarez che non aspettava altro. In area di rigore, bello, tranquillo, felice come una Pasqua, controlla e la mette dentro. 2-0 Argentina, discorso chiuso. Poi arriva il gol dell'Australia che io quando ho letto autogol mi sono inviperito perché è un tiro verso la porta, non è un cross, è un tiro verso la porta che secondo il mio modesto parere era nello specchio della porta. Poi possiamo stare a discutere che il portiere probabilmente se oggi fosse stata l'aviazione di Fernandez l'avrebbe presa. però se non erro, la regola nuova che ha fatto la UEFA, la FIFA e che poi è stata accettata anche nei vari campionati europei e in generale è che se un giocatore calcia verso la porta il pallone viene deviato a meno che il tiro non è chiaramente destinato 4 metri fuori e questo lo aggiungo io perché forse non c'era perché hanno parlato di tiro verso la porta il gol va dato a chi ha fatto il tiro un po' come il gol di ieri di Shaqiri era nello specchio della porta è passato in mezzo alle gambe del difensore della Serbia che lo tocca c'è una deviazione abbastanza chiara non è enorme ma c'è ha dato il gol a Shaqiri quindi non meno perché il tiro del giocatore australiano gli devi dare devi dare autogol a questo povero disgraziato di Fernandez che non ha nessuna colpa è andato incontro al pallone l'ha deviato e la palla è andata dentro non è un cross perché se è un cross come è successo l'altro giorno nell'autogollonzo di piede nell'altra partita aspettate che vi dico qual è perché non mi ricordo quasi più siamo alle solite va bene ve lo dico subito nella partita di ieri non mi ricordo qual era va bene quello che era era un cross lui interviene col piedino con la punta del piede e la mette nella propria porta quello è un autogol e nulla da dire ma qua è un tiro in porta perché 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 devi dare l'autogol a poi questo poverino che non condona nessuna colpa poi come se non bastasse mi sono imbuffali inviperito con Lautaro perché siamo sul 2 a 1 partita in bilico l'argentina si ha fatto di più tutto quello che volete però tutto può accadere ti arriva un pallone al bacio palloncino da limonata galattica ti arriva a livello raso terra tranquillo non rimbalza non ci sono problemi lo devi calciare sul della porta io non ti dico di segnare magari il portiere te la prende ma almeno la porta c'entrala no corpo tutto indietro tiro e pam domani gli arriverà la nota dal WWF perché ha ucciso il piccione e deve pagare cicciai ucciso il piccione no paghi così impari a tirare decentemente perché ha tirato alla GUARIN ucciso il piccione e io ho detto chi è quella capra che aveva un televisore bello grande ma a distanza quindi la fisionomia del giocatore non è che la vedevi benissimo in più c'era sempre qualcuno davanti che passava quindi la partita ieri sera al bar l'ho vista e non l'ho vista poi c'era un po' di topa quindi la si guardicchiava quando ho visto che la Lautaro è il mio amico che non lo può vedere ma hai visto ho sbagliato quella capra quello non è e poi vabbè c'ha la sindrome di Altobelli che cavolo ti devo dire però magari fa come Paolo Rossi attenzione nella prossima partita mi fa tripletta Lautaro e a momenti quell'errore lì lo pagano a caro prezzo perché poi l'Australia all'ultimo minuto ha avuto l'occasionissima infatti anche il bronco di Riace è d'accordo perché il giocatore di colore dell'Australia era lì era lì era là gli arriva la palla in area di rigore leggermente defilato però sei in area di rigore sei a sei metri dalla porta il portiere ti esce alla youppie doo o alla Titanic perché ormai escono tutti con le braccia larghe manca solo la musichetta di sottofondo di Titanic gambe divaricate quasi rasoterra perché se ti scappa di allargarne di più ciao ti disfi perché non siamo delle ballerine se allarghi troppo le gambucce fai senti crack e poi ciao ti devo portare via in barella e di culo ve lo dico da portiere di culo perché era lì con le braccia a youppie doo la palla gli sbatte sul braccio qualcuno può dirmi grande parata no ragazzi quella è una parata di culo tu sei uscito alla kamikaze facendoti il segno della croce sperando che il giocatore ti tirasse addosso cercando di chiudergli lo specchio e ti è andata di culo che la palla è finita sul braccio l'ha preso in pieno è rimbalzata per terra e tu sei riuscito a prenderla perché poteva rimbalzarti e andare dritta poteva rimbalzarti sotto e passare tu stesso fare tac tac e andare in porta invece hai avuto la fortuna che ti ha rimbalzata così e si è impegnata e tu sei riuscito a prenderlo perché se no pagavano a caro prezzo l'errore di Lautaro e dopo se fossero andati ai supplementari ragazzi miei io non so se ai supplementari passava all'Argentina però questi sono segnali sono segnali ragazzi sono quelle botte di culo che dicono che attenzione all'Argentina poi certo gli ottavi di finale sono argentini i quarti di finale sono argentina olanda e poi teoricamente dovresti prendere una fra Francia Inghilterra e Senegal perché non credo che la Francia si faccia eliminare dalla Polonia però tutto può accadere e quindi non lo so questa Argentina già con l'Olanda ci sarà da divertirsi tra due squadre ci appano qualcuno mi dice l'Argentina con l'Olanda va a casa io non ne sono così convinto intanto sono curioso di vedere oggi pomeriggio Francia Polonia Inghilterra Senegal quale delle due tra Francia Inghilterra se passano tutte e due o se ne passa una sola delle due o addirittura succede il patatrac 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 vado a casa tutte e due tutto 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 allora se dovessi dire chi rischia di più vi dico l'Inghilterra col Senegal la Polonia mi sembra poca cosa contro la Francia poi magari mi si scatena Lewandowski gli danno quattro palloni ti segna cinque gol e manda a casa la Francia non penso però tutto può accadere Francia Polonia la vede una partita abbastanza a senso unico però si diceva così anche di Francia Svizzera all'ultimo mondiale o all'europeo che dir si voglia adesso non ricordo Francia Svizzera sarà prima era l'ultimo europeo aspettate che controllo Francia Svizzera 3 a 3 all'europeo e se non erro ci fu anche la stessa Argentina che con la Svizzera venne eliminata Argentina ai rigori ah no 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 era il Mbappé che ha sbagliato il rigore decisivo e non messi era il Mbappé era il Mbappé non giusto stavo confondendo era il Mbappé che ha sbagliato il rigore decisivo quindi non si sa mai che la Polonia faccia la Svizzera nella situazione e mi rispedisce a casa la Francia come fece la Svizzera e sarebbe clamorosissimo i bookmaker vedono chiaramente favorita la Francia sulla Polonia l'uno è dato a 1,30 ragazzi c'è una quota così è da squadra da prime in prime in prime in quattro in classifica del campionato contro non vi dico le ultime tre ma quasi 1,30 Inghilterra Senegal è un attimino più equilibrata tra virgolette ma siamo sempre lì e diciamo che è una sfida tra la terza e quarta in classifica di un campionato contro la quattordicesima perché è data a 1,53 la vittoria dell'Inghilterra poi sapete benissimo del calcio nulla è scontato quindi se dovessi fare un pronostico e darvi una dritta io Francia Polonia mi gioco un 1 più ovvero un e mezzo se vogliamo alzare un attimino la quota non si alzerà più di tanto ma qualcosina in più e Inghilterra Senegal io mi giocherei il gol più che dare un pronostico perché anche l'1x non lo so l'1x ci potrebbe stare ma col fatto che è dato 1,53 se giochi l'1x ti danno 1,15 1,20 dovresti fare 1,5 più gol o 1,5 più ovvero un e mezzo a questo punto vado direttamente col gol così almeno basta che segnano entrambe e poi facciano il risultato che vogliono viceversa Francia Polonia io credo che un 2-0 può venire fuori tranquillamente vedremo cosa succederà ragazzi è un mio parere poi vedremo vedremo cosa succederà e ripeto il resto dell'idea che Francia Polonia potrebbe essere una gara a senso unico molti l'ha dato per scontata mentre Inghilterra Senegal per me è una partita in cui se ne vedranno delle belle e non penso che l'Inghilterra vincerà con più di un gol di scarto poi mi sbaglierò finisce 4-1 per l'Inghilterra e uno dice vabbè tanto di cappello agli inglesi detto questo sperando che sia una volta buona che il clip come cavolo si chiama mi carichi questo benedetto video io vi saluto vi ringrazio vedremo oggi poveriggio alle 16 la Francia alle 20 l'Inghilterra se come da pronostico passeranno anche loro il turno o ci sarà la surprise inaspettata detto questo ci vediamo alla prossima ciao